Devono essere gente, devono essere persone di buona cultura e di buona capacità, chi ha etica per sapere contrastare gli altri e la professionalità per tutti gli altri, devono essere formati sui nostri siti, su internet, ci sono già le lezioni preparate dall'Università della Libertà che illustrano tutti i rogli che di solito vengono messi in pratica e quindi si deve adeguatamente preparare. Per il 25 di marzo stiamo cercando di trovarne molti, naturalmente non potremo fare quell'esame che invece vogliamo fare per le prossime elezioni nazionali, un esame che, per esempio, è sempre internet, domanda risposta, che deve farci sicuri del fatto che le persone che mandiamo a difendere il nostro gruppo sono veramente capaci di farlo. Poi il club dovrà assisterli tutto per tutto, oggi noi abbiamo mancato di questo sistema. Cos'è successo? Che alla sinistra hanno portato l'albertivo, il pranzo, il te del 5, la cena, Grazie. Grazie.